Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale. Torna in primo piano la vicenda della baby gang che lo scorso inverno seminò terrore a Campobasso. Lo ricorderanno, la procura del Tribunale per i minorenni ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per sei giovanissimi tra i 15 e i 17 anni che si resero protagonisti di una serie di aggressioni nei confronti di coetanei ma anche di persone adulte. L'udienza preliminare si terrà a dicembre e il servizio di apertura è di Tonino Danese. È stata fissata la mattina del 28 dicembre al Tribunale dei minorenni di Campobasso l'udienza preliminare per sei ragazzi nati tra il 2004 e il 2006 autori, secondo la procura, di cinque episodi di violenza nei confronti di tre minori e due adulti. In quell'occasione si valuterà se rinviare a giudizio o meno. Vengono contestati fatti risalenti alla fine del 2021 che destarono clamore e preoccupazione nel capoluogo, dopo che in rete circolarono video divenuti virali. Coetanei emerge dalla ricostruzione degli inquirenti, colpiti al volto dagli accusati con schiaffi, pugni e testate per motivi futili, dopo provocazioni e anche minacce, causando pure lesioni e fratture. In un caso picchiato anche il padre di un ragazzo è intervenuto per difendere il figlio. In un'altra circostanza la vittima un adulto, inseguito e colpito dai minori al corpo e al volto con calci e pugni del tipo arti marziali. Si parlò di baby gang, le indagini molto delicate, essendo coinvolti i ragazzi con meno di 18 anni, condotte dalla polizia, dalla squadra mobile che ha ricostruito le vicende in questione, analizzando circostanze, visionando filmati di telecamere e telefonini, ascoltando testimonianze e racconti. I reati contestati anche in concorso vanno a vario titolo, dalle lesioni alle minacce alle percosse. E ora torniamo ad occuparci dell'ennesima bufera che si è abbattuta sull'ospedale di Termoli con la notizia delle dimissioni del primario di ginecologia e ostetricia Dino Molinari, professionista che avrebbe dovuto concludere la sua attività lavorativa nel 2030 e che quindi lascia l'incarico otto anni prima, impossibilitato a svolgere il ruolo che era stato chiamato a ricoprire. Molte le reazioni e tra queste anche la presa di posizione del Comitato Santimoteo. Mi auguro che l'addio di Molinari non rappresenti il preludio alla chiusura del punto nascita di Termoli. A dirlo è il presidente Nicola Felice. Sentiamo Francesca Danversa. La notizia di ieri delle dimissioni del primario facente funzioni del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Santimoteo Bernardino Molinari si è sparsa rapidamente in città provocando collere e amarezza. Sui vari gruppi Facebook tante donne che hanno commentato con rabbia e delusione. Non è possibile, grazie dottore, per tutto quello che ha fatto in questi anni. E ancora, non è possibile perdere un medico così bravo se non ci fosse stato il reparto di ginecologia e il dottor Molinari, adesso non sarei qui a commentare. Non è tardata ad arrivare anche la reazione di Nicola Felice, presidente del Comitato Santimoteo. Le dimissioni del primario Dino Molinari, ha detto Felice, aggravano ulteriormente lo stato in cui versa l'ospedale Santimoteo. Questo è anche, credo, il preludio dell'imminente chiusura definitiva del punto nascita di Termoli che va detto però che questa decisione è maturata anche e soprattutto da quando nell'autunno 2017 non c'è stata la richiesta di deroga all'apertura alla funzionalità del reparto in quanto non aveva raggiunto i 500 nati. Va anche detto che a questo si è aggiunto anche il problema che anche l'ultimo post approvato ed è attualmente vigente non prevede più il punto nascita di Termoli. Si aggiunge tra l'altro il fatto che già è da giorni che il dottore Florenzano ha munito al commissario Toma una soluzione, una prospettiva in caso di chiusura definitiva. Quindi riteniamo che sia questione proprio di pochissimo tempo ed è probabile pure che ciò possa avvenire anche prima ancora che il TAR esamine nel merito la famigerata chiusura che c'è stato anni fa del punto nascita. Questo perché dato la soluzione praticamente viene meno anche il contentere e oggi credo che ci siano poche le speranze di poter agire anche tramite la magistratura amministrativa e un'eventuale chiusura del punto nascita perché tutta l'iniziativa sarebbe supportato da una programmazione sanitaria che non prevede il punto nascita. La speranza che le dimissioni del dottore non rappresentino il canto del cigno per il reparto del Santimotio anche se in molti promettono battaglia. Cambiamo argomento. Gli ex lavoratori della GAM si sono riuniti in assemblea a Boiano per discutere non solo di politiche di ricollocamento ma anche e soprattutto di futuro della filiera avicola con i rappresentanti sindacali. È stato fatto il punto e sono state spiegate le procedure burocratiche. Sono oltre 300 gli allevamenti di polli nel Molise ed è stato evidenziato fare il macello e far ripartire il settore significa valorizzare quanto si ha e creare un indotto. L'interlocuzione anche su imprenditori interessati e su progetti è stata avviata da tempo e si attendono risposti anche dalle istituzioni, dalla regione. Siamo attenti e monitoriamo con attenzione cosa succede. Ha spiegato Giancarlo Dilio, storico lavoratore GAM. Non molliamo di un centimetro perché vogliamo solo ripartire e lavorare la cassa integrazione. Non ci interessa con CGL, Cisle e Will. Si ha in programma di organizzare un evento a Boiano, un incontro a settembre, coinvolgendo sindaci, rappresentanti istituzionali, politici per discutere seriamente di prospettive di rilancio e piani concreti. Così ha concluso. Il Tar del Molise ha rigettato il ricorso del comune di Castel del Giudice relativo alla graduatoria del bando Borghi linea A del PNRR. Ad aggiudicarsi 20 milioni dell'avviso sarà quindi il comune di Pietrabbondante risultato vincitore del bando. Il servizio è di Valeria Migliore. Il Tar Molise ha rigettato il ricorso del comune di Castel del Giudice arrivato secondo in classifica nella graduatoria del bando Borghi linea A del PNRR. Ad aggiudicarsi i 20 milioni dell'avviso, salvo un'eventuale altra decisione del Consiglio di Stato, sarà quindi il comune di Pietrabbondante risultato vincitore del bando con un progetto di promozione turistica e territoriale dal titolo Pietrabbondante, un angolo di mondo tra cielo e terra. Il ricorso era stato presentato dall'amministrazione guidata dal sindaco Lino Nicola Gentile che aveva contestato l'illegittimità dell'ammissione alla procedura del progetto primo classificato oltre a profili di illegittimità propri della fase di merito della valutazione dei progetti. Ma il Tribunale amministrativo regionale ha bocciato il ricorso. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Pietrabbondante Antonio Di Pasquo. La decisione è assunta dal Tar dal nostro centro la possibilità di aprire un nuovo capitolo di crescita e sviluppo, ha commentato a caldo il primo cittadino. Lavoreremo per incentivare il turismo in tutto l'Alto Molise. A tal proposito ribadisco che non c'è alcun tipo di astio tra il nostro comune e quello di Castel del Giudice. Alcuni hanno parlato di una guerra fratricida tra comuni dello stesso territorio ma non esiste alcun tipo di lotta. Si tratta solo di collaborare al meglio per il bene della nostra terra e di tutto il Molise, ha detto ancora Di Pasquo. Il borgo vincitore unico del bando in Molise punterà sul rilancio e sulla valorizzazione del complesso archeologico del teatro sannitico ma anche sulla costruzione di nuove infrastrutture. Completeremo il museo archeologico tramite l'allestimento di una nuova area e lavoreremo anche sulla riqualificazione della zona delle morge, ha continuato il sindaco. Vogliamo che la vittoria del bando abbia una ricaduta anche sul piano dei servizi per i cittadini. Inoltre il comune di Pietrabbondante si attiverà anche per dare via libera all'apertura di nuove aree di scavo. Al momento il complesso turistico di Pietrabbondante accoglie ogni anno 25 mila visitatori, ha concluso il primo cittadino. A fine del finanziamento punteremo a duplicare, anzi triplicare le presenze. E veniamo all'andamento della pandemia. Oggi si registra una nuova vittima ed è una donna di pesche di 47 anni che era ricoverata in terapia intensiva al Cardarelli. I contagi sono 358 su 1.258 tamponi. Il tasso di positività è al 28,4% nel bollettino, anche 609 guariti. In ospedale un solo nuovo ricovero. Sono ora 20 i pazienti Covid al Cardarelli. E la procura di Campobasso ha chiesto l'archiviazione delle accuse per l'ex commissario della sanità molisana Angelo Giustini. Il generale era stato indagato lo scorso anno per omissione in atti d'ufficio e abuso d'ufficio nell'ambito della gestione dell'emergenza Covid. Proprio in seguito a quella iscrizione sul registro degli indagati, Giustini si era dimesso dall'incarico. Il servizio è di Enzo Luongo. Aveva ricevuto l'avviso di garanzia nella primavera dello scorso anno. Per Angelo Giustini, che proprio a seguito di quella indagine che lo riguardava si dimise dall'incarico di commissario d'acta della sanità molisana, c'è invece ora all'orizzonte l'uscita dalla vicenda giudiziaria. La procura di Campobasso ha infatti chiesto l'archiviazione del fascicolo nei suoi confronti che ipotizzava i reati di omissione di atti d'ufficio e abuso d'ufficio. Nel dettaglio, secondo il capo di imputazione dell'epoca, tra omissioni e ritardi, il generale avrebbe determinato una gravissima situazione di disservizio sanitario nella gestione dei malati di Covid. A Giustini veniva anche contestato di aver nominato, senza averne la facoltà, un commissario locale per la gestione dell'emergenza che aveva individuato nell'attuale direttore generale dell'ASRE, Moreste Florenzano. Nelle carte dell'inchiesta c'era infine il progetto del centro Covid mai realizzato a Larino, un progetto che la procura nelle carte di un anno fa definiva inqualificabile che avrebbe creato una sorta di lazzaretto. Finiti gli accertamenti e valutata la memoria difensiva che lo stesso Giustini presentò attraverso i suoi avvocati, Danilo Leva e Giuseppe Stellato, per respingere le accuse e motivare le sue scelte, la procura stessa ora non ha ravvisato elementi per procedere con la richiesta di rinvio a giudizio e ha quindi chiesto l'archiviazione. Entro fine mese le parti hanno tempo per opporsi alla richiesta. Il tempo dei proclami è finito dalle parole si passi ai fatti e a dirlo è Sergio Calce del sindacato USB che interviene sulla vicenda delle stabilizzazioni per il personale sanitario impiegato nella fase acuta della pandemia. Il sindacato chiede di incontrare il presidente commissario Donato Toma, ce ne parla Pasquale Di Bello. L'antefatto lunedì scorso con il voto unanime del Consiglio regionale in favore della stabilizzazione del personale sanitario impiegato nella fase acuta del Covid è assunto dall'ASREM a partita IVA. Una vicenda che torna in cronaca politica per l'ennesima volta. Basta proclami, dice Sergio Calce del sindacato USB, quello che sin dall'inizio ha seguito la vicenda. Dalle parole si passi ai fatti, rimarca Calce, di mozioni e discorsi. Se ne sono fatti fin troppi. Occorre, dice ancora, una legge a sostegno del percorso di stabilizzazione. Pochi fatti, solo mozioni. Noi predentiamo una legge, visto e considerato che sono decine di volte che il Consiglio regionale all'unanimità si esprime su questi dati. Prendiamo atto che sono ragazzi, ragazze, ossa, infermiere che durante la pandemia hanno lavorato anche 12-13 ore al giorno. Basta chiacchiere, basta demagogia, se c'è l'interesse li assumono. L'ASREM non capisco, non capivamo anche prima perché aveva fatto le partite, ovviamente dovevano essere assunti a tempo determinato per poi trasformarli anche a tempo indeterminato. La vicenda, va ricordato, riguarda circa 40 persone tagliate fuori dalla stabilizzazione prevista dalla legge nazionale che ha come riferimento solo i lavoratori assunti a tempo determinato e non a partita IVA. Una scelta che il sindacato ha sempre contestato all'azienda sanitaria. Per verificare la serietà e la concretezza della nuova presa di posizione del Consiglio regionale, nei prossimi giorni il sindacato chiederà di incontrare il Presidente Commissario Toma. Chiederemo un incontro al Presidente Commissario in considerazione del voto all'unanimità per aspettarci risposte concrete. Ecco, non si può più sfuggire. Il Presidente della Giunta regionale diceva la volta scorsa che era compito del Commissario, adesso è lui e anche Presidente non può scappare. Ecco, ci aspettiamo atti concreti, nei prossimi giorni chiederemo l'incontro da subito per fare una verifica. Mi auguro che questa sia la volta buona e non sia la solida demagogia purtroppo della politica. Un risultato straordinario quello dell'accordo di partenariato 2021-2027 rispetto al quale esprimiamo grande soddisfazione. A dirlo è il Governatore Donato Toma. Abbiamo lavorato sodo in sede di Conferenza delle Regioni, aggiunge Toma, per dare un contributo alla proposta del Governo Draghi che ha recepito le nostre osservazioni. Ringraziamo il Ministro Carfagna che da subito ha caldeggiato l'iniziativa. Il Commissario europeo è il coordinatore della Commissione Affari Europei. Per tutto il lavoro portato avanti il Sud nel riparto delle risorse fa la parte del Leona. L'Italia potrà contare su più di 43 miliardi di euro in arrivo da Bruxelles che sommati al cofinanziamento nazionale portano il totale dei fondi strutturali e di investimento a 75 miliardi di euro. E ora andiamo a Termoli perché questa mattina nella Chiesa di Sant'Antonio si sono svolti i funerali del Maestro Antonio Casolino, scomparso ieri all'età di 94 anni e in tanti hanno voluto dare l'ultimo saluto al Delfino di Termoli. C'era per noi ancora Francesca Danversa. Prima di arrivare nella Chiesa di Sant'Antonio dove lo aspettavano in tanti per l'ultimo saluto, il Maestro Antonio Casolino ha voluto camminare per l'ultima volta per le strade che lo hanno visto nascere e crescere. Ha voluto vedere il porto e il suo mare che conserveranno per sempre il rumore delle sue bracciate. Ha salutato la sua Termoli che ha tanto amato e che l'ha amato. Il Delfino di Termoli Antonio Casolino si è spento ieri all'età di 94 anni. Qualcuno sui social ha scritto se dici Casolino dici nuoto, un grande sportivo che ha portato il nome di Termoli nel mondo e la sua città è sempre stata orgogliosa di lui. Quando nuoto mi riposo, così diceva, non ha mai smesso per 80 anni. Sarai sempre il nostro professore, hai trasmesso l'amore e la passione per il nuoto a ognuno di noi. Questa è la frase che i suoi allievi gli hanno lasciato, lui che ha insegnato a nuotare a intere generazioni di Termolesi. Il ricordo più bello che ho di Antonio Casolino è che lui ogni volta che faceva una gara di quelle importanti anche all'estero, il primo a essere svegliato la mattina alle 7 ero io, perché lui ci teneva che doveva essere appunto il primo. Ma altri, quando faceva la casetta di Natale lì nella piazzetta dove lui abita in Vierroffini, quando lo vedevo scaricare la legna, tagliare legna, insomma lui era tutto. E poi era il mare e il nuoto in persona. La sua vita la faceva più volte, più che al mare che in famiglia. Perché lui alle 7 di mattina o andava in piscina o andava al mare, era sempre lì a nuotare. Nuotare era il suo abitato da quando aveva 8 anni. Antonio l'ho sempre conosciuto, Termolese verace lui, Termolese anch'io. Abbiamo collaborato per la stesura del libro Un tuffo nella gloria, che ho scritto con lui a quattro mani. In quel periodo io ho potuto constatare soprattutto due cose. Il suo amore sconfinato per il mare e il suo amore sconfinato per Termoli. Fiero di aver portato il nome di Termoli in tutto il mondo attraverso le sue imprese. Noi ragazzi quando si andava giù nella piscina comunale abbiamo tutti il ricordo che lui vigilava, controllava ma soprattutto ci insegnava a nuotare e quindi a lui gli dobbiamo un grazie, un grazie veramente di cuore. Al termine dei funerali i nipoti Aurora e Davide hanno letto delle poesie in dialetto scritte per lui e la figlia Simona ha ringraziato tutti per l'affetto. Mi sono sentita abbracciata e ha ricordato il padre. È stato un bravo papà, i suoi insegnamenti rimarranno indelebili. Ancora richieste per il governatore Donato Toma con una nota a firma del presidente Corrado Di Niro e indirizzata al presidente della regione. Infatti l'Ace Mance Molise chiede di intervenire in merito alle segnalazioni arrivate dalle imprese associate che riguardano la mancata emissione delle determine di liquidazione inerenti gli stati di avanzamento dei lavori pubblici presso gli assessorati competenti oltre alle difficoltà nel riscuotere fondi in avanzo di amministrazione non più riscritti in bilancio. Nella nota è stato chiesto di risolvere questi problemi e di conoscere anche entro quando sarà trasferito all'Agenzia regionale post-sisma il conguaglio di 3 milioni e 700 mila euro per il pagamento dei lavori della ricostruzione 2002. Occorre un'accelerazione, una semplificazione delle procedure, ha detto il presidente Di Niro e sulla ricostruzione le imprese hanno bisogno di certezze, altrimenti nostro malgrado saremo costretti a fermarci e a risolvere i contratti con i committenti. Voltiamo decisamente pagina, il Museo dei Misteri di Campobasso è primo nella classifica provvisoria nazionale dei luoghi del cuore del FAI. Si può votare fino a dicembre e ce ne parla Tonino Danese. È ancora una classifica provvisoria ed è in continua evoluzione quella dei luoghi del cuore. A poco più di due mesi dal lancio dell'undicesima edizione al momento, ai primi posti c'è il Museo dei Misteri di Campobasso che si contende il primato con altre rinomate realtà italiane. I luoghi del cuore è il più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale del nostro paese promosso dal FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, in collaborazione con Intesa San Paolo. Sono già 300.000 e più i voti online e cartacei raccolti che portano all'attenzione oltre 25.000 luoghi unici per storia, arte e natura. Si può votare fino al 15 dicembre. Il Museo dei Misteri è tra i più votati, dunque inaugurato nel 2006 e dedicato agli Ingegni del Dizzinno che da oltre 260 anni sfilano a Corpus Domini a Campobasso. Quest'anno quasi 100.000 presenze per il ritorno dei misteri per le vie della città. L'Associazione Misteri e Tradizioni ha in archivio oltre 80.000 fotografie che ritraggono gli Ingegni dalla fine dell'Ottocento ad oggi ma anche filmati dal 1929. Tutti possono votare i luoghi più cari con un click sul sito www.iluoghidelcuore.it o con una firma sui moduli. Al termine del censimento al primo, secondo e terzo luogo classificato andranno rispettivamente 50.000, 40.000 e 30.000 euro. FAI è intesa a San Paolo, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi prevista per febbraio 2023 lanceranno anche il consueto bando per la selezione dei progetti di intervento in base al quale tutti i proprietari pubblici o no profit e i portatori di interesse dei luoghi che avranno ottenuto almeno 2.500 voti potranno presentare alla Fondazione una richiesta di sostegno. E intanto questa mattina all'assessorato regionale al lavoro c'è stata la stipula della convenzione con 26 comuni molisani selezionati nell'ambito dell'avviso pubblico riguardante i cosiddetti lavori di utilità diffusa. Il progetto vede coinvolti 200 lavoratori che per 12 mesi presteranno il proprio operato in programmi che hanno l'obiettivo di valorizzare il livello dei servizi resi ai cittadini ma anche di assicurare un sostegno al reddito. Quello dei lavori di utilità diffusa è uno strumento di politiche attive del lavoro ha detto l'assessore al ramo Filomena Calenda che permette l'inserimento di unità lavorative in stato di bisogno, inoccupate, disoccupate o senza alcun sostegno al reddito in progetti occupazionali utili anche alla crescita delle realtà locali. Le amministrazioni comunali del territorio molisano hanno infatti più volte espresso il proprio apprezzamento per l'operato svolto da queste unità lavorative. Grazie a tutti. Alla cittadinanza. L'anticiclone africano si sta abbattendo in queste ore anche sulla nostra regione. Bollino rosso soprattutto per le città mentre per i prossimi giorni sono attese temperature record che in alcuni casi sfioreranno i 40 gradi. Cosa fare dunque con questo caldo? Quali sono le iniziative per trovare un po' di refrigerio? Ci soffermiamo sulla provincia di Isernia con Barbara Fino. Caldo record e bollino rosso in tutto il Molise. La fase più critica si aprirà oggi con l'anticiclone africano Apocalisse ma è domani che si registreranno le temperature più alte con tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Insomma un quadro non rassicurante soprattutto per anziani e bambini che nelle prossime ore dovranno trovare luoghi freschi e riparati. Io mi riparo al fresco di casa, apro le finestre e cerco di organizzare le correnti d'aria in casa. Sto a casa. Sto da casa. E' l'unica cosa che possiamo fare. E' un po' di aria condizionata. Sta soffrendo per questo caldo? Abbastanza. Prendete fresco tutti e due? E' più lui. Lui lo soffre il caldo? Ah molto. Oggi fa caldo veramente. Avete caldo? L'ideale dunque per affrontare questo weekend da temperature record sarà restare a casa nelle ore più calde. Consigliano gli esperti bere tanta acqua e perché no rinfrescarsi anche con qualcosa di fresco come una frutta o un buon gelato. Si potrà affrontare la calura anche partecipando ai numerosi appuntamenti con le escursioni di sport acquatici organizzati in tutta la provincia di Isernia. Tuffi scivole nuotate in torrente a Santa Gabito, giro sul lago in barca oppure escursioni a piedi e a cavallo a Castel San Vincenzo, trekking al tramonto a Longano, Capracotta e Pesco Pennataro e ancora passeggiate nell'acqua a Carpinone e i bike tour nella riserva naturale orientata di Pesche. E dopo due anni di blocco a causa della pandemia quest'anno la pezzata si farà. Lo ha detto e lo ha annunciato ufficialmente il sindaco di Capracotta Candido Paglione e ce ne parla Valeria Migliore. Via libera la pezzata di Capracotta lo ha annunciato il sindaco Candido Paglione. La notizia circolava già da qualche settimana ma ora è ufficiale. Dopo due anni di stop a causa della pandemia il 7 agosto la più antica sagra molisana tornerà nel suggestivo pianoro di Prato Gentile. Finalmente torniamo a rivivere un evento che rappresenta un'importante vetrina per Capracotta e che è il simbolo del nostro territorio, ha detto il primo cittadino. Anche se le notizie di questi giorni con una nuova impennata di contagi non ci lasciano del tutto tranquilli, con le dovute cautele possiamo tornare a condividere la pezzata. Dunque ha concluso Paglione seppur con la massima attenzione alle norme igieniche dobbiamo vivere a pieno questo evento con l'augurio che possa segnare davvero il ritorno alla normalità. Molto soddisfatto anche Tiziano Rosignoli, presidente della Proloco, che da sempre organizza la manifestazione insieme all'amministrazione comunale. La macchina organizzativa è già al lavoro e nonostante il riposo forzato i meccanismi sono ben oliati da decenni di esperienza e tanta passione, ha detto Rosignoli. Siamo pronti ad accogliervi sicuri che sarà una splendida giornata per tutti. È stata presentata a Campobasso la 26esima edizione del Festival del Teatro Popolare e della tradizione organizzato al Parco De Filippo nel quartiere San Giovanni a Campobasso. Domani il primo appuntamento, sentiamo ancora Tonino Danese. Il Parco De Filippo nel quartiere San Giovanni a Campobasso ospita da domani la 26esima edizione del Festival Nazionale del Teatro Popolare e della Tradizione, organizzato dall'associazione Il nostro quartiere San Giovanni con la collaborazione dell'assessorato alla cultura del comune. Sette le commedie in scena fino all'8 agosto presentate in conferenza stampa dai vertici dell'associazione dal sindaco Gravina e dall'assessore Paola Felice. Ad aprire la rassegna domani alle 19 la musica della Lawrence Band di Gambatesa. Protagoniste delle serate in cartellone, compagnie di Campobasso, Santa Croce di Magliano e Monte Nero di Bisaccia, ma anche pugliesi di Bisceglie e Castellana Grotte e una di Monte Corvino Rovella Salerno, direttore artistico Lino D'Ambrosio. Siamo ben felice di riproporlo ancora, soprattutto in questa location, questo parco Edoardo di Filippo che si presta in maniera egregia. È un momento culturale, è un momento di aggregazione sociale molto aspettato e molto atteso dai cittadini. Sono sette spettacoli che vedono la presenza di molte compagnie anche fuori regione perché non dimentichiamo che il Covid comunque sia dato anche un freno a molte compagnie a rilavorare. Quindi il nostro cartellone vuole essere anche un auspicio di lavorate che almeno al parco ci sarete. Per prenotazioni e abbonamenti rivolgersi all'associazione, collegato agli eventi anche il concorso fotografico. Questo sarà il quindicesimo e noi abbiniamo proprio questo concorso al festival, diamo spazio ai fotografi per fotografare sia il parco, gli eventi che hanno luogo in questo frangente di festival e appunto dare loro l'opportunità anche di riscoprire quest'area proprio che è così bella per le foto insomma e quindi abbiniamo le due cose. E con la ventiseiesima edizione del Festival del Teatro Popolare termina anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete Telemolise. Buonanotte.